Grande campione sui pedali e nella vita, a Gino Bartali è stato riconosciuto il titolo di Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem per la sua vicenda umana straordinaria, impreziosita dal coraggio durante il nazifascismo. Il campione, che divise l'Italia nella sana rivalità con i piemontese Fausto Coppi, è stato ricordato a Palazzo Lascaris per iniziativa del Comitato Resistente e Costituzione del Consiglio regionale, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, la Comunità Ebraica di Torino e l'Associazione Culturale Rectoverso. Papà è stato un ginettaccio, un senso affettuoso in Toscana, chiamarlo così, e ha fatto le grandissime cose in campo sportivo, perché è un campione ancora ricordato, ed ora viene fuori invece la parte umana di questa persona, di quello che ha fatto durante la guerra, della sua generosità nel portare avanti pericolosamente dei progetti in clandestinità per salvare le persone. E quindi insomma io ritengo che abbia fatto delle cose per cui vada ricordato sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista umano.